Alessandro buongiorno. Allora questa riunione invece riguarda l'aspetto del mondo blockchain. Abbiamo qui Alessandro Civati che è il CEO di questa società e daremo in questa mezz'oretta delle indicazioni di alcune applicazioni e mi piace questa cosa consecutiva dopo il mondo dei droni perché vedete che quando parlavano di certificazioni e di cose sono sempre certificazioni personali. Se a queste certificazioni personali potessero esserci attaccati anche la notarizzazione di quello che stiamo facendo, credo che sarà il matrimonio del futuro. Tutte le cose andranno così. Lascio parola ad Alessandro in modo tale che parta lui perché abbiamo poco tempo. Prego Alessandro, buongiorno. Eccoci. Buongiorno Roberto e piacere a tutti gli altri che piano piano spero anche di conoscere personalmente. Allora come diceva appunto Roberto, io rappresento, sono il CEO di questa azienda che si chiama Lutenix Lutenix è un'azienda di diritto americano e anche se tutta l'iniziativa come poi io stesso sono italiano però in questo caso nasce tutto tre anni fa in Svizzera e dalla Svizzera abbiamo iniziato ad ampliare le nostre attività soprattutto nel sud Europa, in Italia, in Svizzera, in Spagna e da marzo di quest'anno abbiamo spostato la centralità delle nostre attività fondamentalmente negli Stati Uniti e dagli Stati Uniti abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando l'attività commerciale sia appunto nel Nord America sia anche in Asia e in altri paesi. Ma ora condividerei lo schermo così perlomeno andiamo sul dettaglio, non vi annoio tanto con la mia presenza ma andiamo su fatti concreti, quindi condivido l'intero schermo così mi riduco Allora, questo è il nostro sito internet, Lutenix.com in italiano e fondamentalmente cosa siamo? Lutenix è una struttura, è una società che non si occupa di criptovalute di solito quando si parla di blockchain o se voi sentite parole blockchain pensate subito al bitcoin ecco, noi non facciamo bitcoin Lutenix utilizza la tecnologia blockchain fondamentalmente per la certificazione dei dati, delle competenze o in genere del metadato, in quanto ogni dato che viene caricato nel computer, qualunque esso sia alla fine è un metadato, questo è il termine tecnico per dire quello che noi scriviamo all'interno La tecnologia blockchain è quella tecnologia che ormai è partita da una decina d'anni che nota soprattutto per il mondo delle criptovalute ma negli ultimi due o tre anni sono iniziate anche delle applicazioni che utilizzano la blockchain ma cos'è la blockchain? La blockchain è una tecnologia che semplicemente adesso la semplifico al massimo, rende immodificabile il dato che viene iscritto su di essa quindi poniamo, noi siamo partiti 30 anni fa, io stesso ho qualche anno quindi immaginiamo noi quando abbiamo iniziato a lavorare all'inizio c'erano i fax, quindi la carta, anzi prima le buste, poi sono arrivati i fax poi alla fine degli anni 90, inizio del 2000, è arrivato questo internet quindi sono iniziate le mail e sono arrivati i siti web quindi, come dire, dalla carta siamo passati al digitale oggi dopo circa altri 20 anni sta iniziando a essere conosciuta questa tecnologia appunto chiamata blockchain per me la blockchain è l'internet delle cose certe perché? Perché quanti di voi avranno visto sicuramente siti web dove c'è di tutto sia i professionisti, sia aziende serie ma anche tanti villantatori o gente che si improvvisa maestro di ecco, con la blockchain se io oggi dico che sono bravo a fare una certa cosa se io oggi dico in ambito accademico io mi sono diplomato, mi sono laureato oppure ho preso l'abilitazione parlando del caso di prima a pilotare un drone ecco, se questa mia dichiarazione viene confermata e notarizzata in gergo tecnico all'interno della blockchain dopo non me la posso più rimangiare quindi se ho detto una balla domani qualcuno mi potrebbe, come dire, chiedere ammenda ma legalmente parlando perché? Dico legalmente parlando perché sia in Italia sia ormai in oltre 80 paesi nel mondo la blockchain è riconosciuta quale tecnologia con validità anche di prova legale fondamentalmente nel grosso dei paesi prova legale per l'ambito della data la data certa immaginate il concetto di quando andavamo in posta a tirare i documenti per dare la data oggi ho fatto questo quindi penso tutti di voi l'abbiano fatto almeno una volta nel corso degli anni ecco, oggi al posto di andare in posta o in questo momento andare in tribunale dall'ufficiale giudiziario a farsi timbrare il documento si può usare questa tecnologia il nostro lavoro è quello di rendere facile l'uso della tecnologia perché se parliamo di blockchain il mio interlocutore, il vostro interlocutore non deve essere un ingegnere informatico deve essere un utilizzatore poniamo lo stesso utilizzatore di uno smartphone quindi chiunque lo deve fare il mio lavoro è quello di rendere facile questa tecnologia l'Utinix cosa fa? siamo basati fondamentalmente su tre pilastri che rendono poi usabile queste applicazioni questo nuovo modo di usare internet il primo è l'identità nessuno dei nostri account è, come dire, basato in autodichiarazione o fiducia ogni account sulla nostra piattaforma deve essere validato nella stessa procedura che voi usate per aprire un conto corrente in banca dico un conto corrente adesso vi faccio anche la spiegazione di questo cosa vuol dire? io devo provare la mia identità quando apro un account perché? immaginate quando andate da un notaio e non conoscete il notaio e il notaio non vi conosce la prima cosa che il notaio fa quando voi vi sedete mi date per favore il vostro documento il notaio verifica voi chi siete perché il notaio poi va a confermare una certa vostra azione ecco, nel mio mondo parlare di blockchain parlare di dati immutabili parlare di dati certi senza veramente un'informazione certa stiamo parlando del nulla perché se io vado a dire una catena di approvvigionamento io ho fatto un documento ma quell'io non è verificato stiamo parlando del niente quindi il primo step della nostra soluzione è verifica dell'identità ognuno di voi si verifica deve provare carica un selfie carica una foto una foto del suo documento e noi verifichiamo un po' come succede in Italia per Speed il servizio di identificazione pubblico per accedere ai servizi della pubblica amministrazione anche in questo caso Speed non è lo Stato Speed è un consorzio di aziende private che si occupano esclusivamente dell'identificazione della persona quindi verificano che voi siete chi dite di essere punto il servizio finisce lì Speed nasce e muore nei confini italiani Lutenix lavora a livello internazionale siamo attivi in oltre 12 paesi ad oggi e come strumento di identificazione abbiamo scelto quello che oggi utilizzano le banne per aprire i conti correnti online magari alcuni di voi hanno un conto su Revo Luten26 Sella Online altre realtà utilizzano un sistema analogo e utilizzano un protocollo che in gergo tecnico viene chiamato di verifica KIC KIC sta per Know Your Customer verifica dell'utente abbiamo scelto il protocollo bancario perché è l'unico valido in Italia in Inghilterra in Germania negli Stati Uniti in Giappone in Cina quindi quella procedura è più o meno standard dal 98% al 95% in quasi tutti i paesi del mondo quindi un'identità verificata in quel modo è valida se voi fate un conto aprite un conto in Revolut e fate un bonifico ad un vostro amico per un giudice voi avete mandato dei soldi ad una terza persona quindi il presupposto è che l'identità è stata verificata realmente senza dilungarmi oltre però questo concetto è fondamentale perché è la base di tutto il resto abbiamo oltre 45 applicazioni in blockchain perfettamente funzionanti applicazioni in blockchain come la notarizzazione dei documenti come la conferma delle competenze la conferma dei titoli accademici la tracciabilità sicuramente magari qualcuno di voi ha sentito la tracciabilità del vino quando va al supermercato dire la filiera da dove arriva il vino da dove arriva la carne da dove arriva quel biscotto così buono che mi mangio ecco in questo caso si parla di filiera tracciabilità della filiera alimentare nel nostro caso come avevo spiegato settimana scorsa a Roberto parliamo di tracciabilità documentale poniamo la tracciabilità che serve per tracciare poniamo la filiera del 110 quindi quando un architetto un geometra un amministratore di condominio invia riceve o comunque gestisce una serie di documenti questi possono essere provati legalmente in formato digitale con tanto di valenza legale semplificando l'invio di documenti per posta semplificando le fotocopie semplificando la notarizzazione di un documento un ispettore che deve verificare la filiera che è stata davvero complessa che è stata davvero rispettata grazie alla blockchain lo può fare quindi un ispettore può verificare che tutti i passaggi che portano all'erogazione di un credito sono fatti e vengono fatti in real time quindi anche l'attività ispettiva si riduce fondamentalmente in una verifica di credenziali verifica di documenti che si può fare al posto non più nelle attività che può richiedere anche settimane o mesi ma nell'arco di un'ora due ore a seconda della mole dei documenti allegati ma e questo lo permette e questo lo permette grazie alla blockchain il terzo pilastro fondamentale della nostra tecnologia è la totale assenza di criptovalute la blockchain è una tecnologia a pagamento voi tantissime aziende oggi io vorrei dire in Italia penso diciamo il 99% perché non ne ho trovata ancora una che sono società di informatica oggi giustamente visto che è un settore in trend di crescita iniziano a sviluppare applicazioni in blockchain ma che cosa fanno loro? vi creano uno smart contract vi creano l'applicazione e poi vi dicono a voi che siete il cliente benissimo io ti ho creato l'applicazione ora comprati della criptovaluta apriti un wallet che io ce l'aggancio così ogni volta che tu la usi io addebito il tuo conto corrente in questo caso in cripto immaginate che già li posso questa procedura potrebbe mettere in difficoltà diversi soggetti soprattutto non addetti ai lavori noi non usiamo le criptovalute abbiamo un sistema sottostante in questo caso davvero unico per il nostro settore dove i nostri utenti non gliene deve interessare assolutamente nulla di comprare criptovalute e di aprire su un wallet comprano una licenza una licenza con 10.000 transazioni e poi c'è un contatore un model vecchio credito telefonico che va giù questo ci permette anche di entrare e lavorare con la pubblica amministrazione o con le grosse aziende perché a parte una montagna di conferenze che voi stessi potrete aver sentito o che potrete cercare online ancora oggi su LinkedIn e in Facebook ci sono centinaia di webinar al giorno che parlano di blockchain parlano tutti di teoria oppure di criptomonete non c'è nessuno che parla di casi concreti perché perché fare un'applicazione basata su una criptomoneta e oggi le criptomonete sono tutte in rialzo significa fare un prodotto totalmente antieconomico e quindi tutti parlano di quanto sia bella questa tecnologia di quanto può rivoluzionare il mondo ma nessuno lo fa vedere noi invece il mio primo esempio quando inizio un'attività è io do il mio biglietto da visita nel mio biglietto da visita c'è un prodotto come quello che vi mostro adesso questa è la nostra suite che potete verificare anche voi c'è un prodotto che si chiama L-Bage ora ve lo apro L-Bage che cos'è? è la semplificazione massima di quello che vi sto dicendo io adesso senza dilungarmi e leggere le scritture che poi lo vedete in L-Bage cosa succede? io nel mio biglietto da visita quello che voi stessi potreste avere con la vostra azienda avete un codice QR come questo io quando mi presento do un bigliettino da visita e dico al mio interlocutore puoi leggere per favore il QR del mio biglietto? questi mi guardano sorridendo e dico guarda sto fesso pensa che non so neanche usare un cellulare ormai penso che tutti abbiano almeno una volta scansionato uno di questi codici ecco scansionano il codice e gli si apre sul vostro sul loro cellulare un'interfaccia come questa dove in questo caso l'esempio potrebbe essere la società conferma che in questo caso è un esempio Lucas è il CMO dell'azienda io vi apro un esempio ad esempio lrx.is slash ac questo è il real time e adesso questo è il link breve al mio QR del mio biglietto ecco giustamente l'ho sbagliato perché poi parla ma poi la memoria facileca ogni tanto questo dovrebbe essere corretto vediamo sta arrivando con condivisione va un po' più piano ma eccolo qua ok allora in questo caso vedete questo è il badge che comparirebbe sul vostro cellulare dove in questo caso il consorzio life nella persona dell'HR officer conferma che Alessandro Civati è il CMO questo cosa vuol dire si conferma il ruolo voi siete il tecnico incaricato voi siete il periodo voi siete l'amministratore voi siete si dimostra il ruolo queste spunte vicino ai nomi dicono che i due soggetti sono legalmente validi e in un colpo solo voi potete verificare se quello che io dico è vero quanta gente dice di essere responsabile vendita responsabile commerciale chissà che cosa ma lo è davvero quel biglietto di carta che hai in mano è verificabile ecco grazie alla tecnologia blockchain si può verificare che io sono chi dico di essere ma come? grazie alle spunte che il nostro sistema archivia e qui sotto questo codice strano che vedete sotto il mio nome è la transazione in blockchain che va a confermare questo questo è un po' questo è tipo il registro notarile della blockchain questo è il codice il numero dei blocchi 14.893 blocchi è stata elaborata questa informazione emesso il 9 febbraio alle 19.23 il nome dell'applicazione da settembre questo lo dico così per aggiunta nel transaction row ci sarà un codice univoco tokenizzato dell'informazione tokenizzato cosa significa? che nel nostro mondo non andiamo solo a chiedere la data certa che poi viene appiccicata sopra un pdf o sopra un'informazione andiamo anche a rendere immutabile una certa informazione adesso è già attiva a livello di marketing questo campo è vuoto con il mese prossimo qui renderemo visibile un codice univoco che viene proprio sparato nella rete e che rende totalmente valida a livello legale questo tipo di certificazione domani io non lavoro più per questa struttura il nuovo amministratore lo disattiva e qui ci potessero essere ci potrebbero essere poniamo non fa più parte della nostra azienda quindi voi avete in mano il mio biglietto da visita ci rivediamo tra un anno prima di vedermi verificate oh cavolo Civati non lavora più lì come mai da quanto il da quanto lo verificate qua sotto lo stesso approccio lo usiamo invece anche per attività come questa nell'ambito delle competenze adesso prima visto che sentivo una struttura che fa un secondo Alessandro certo Roberto solo per una questione commerciale allora queste sono cose giustamente che a noi serviranno tutte e quindi lo faremo sicuramente dopo interverrà il presidente ma parlando proprio dei tecnici che sono qua presenti loro per il 110 emettono una serie di dati quindi emettono che ne so il capitolato che il cliente accetta mettono per esempio che ne so il progetto di un certo tipo mandano al genere il contratto delle informazioni mandiamo via dei pdf e allo stesso tempo per la questione che dicevamo prima con Tommaso è una questione che il suo partecipante al corso ha finalmente il titolo a quel punto ogni documento che emette per conto del cliente che gli chiede lo notarizza mi spieghi che cosa vuol dire questa cosa e come si vede? allora notarizzare un documento in blockchain significa rendere non più modificabile quel documento quindi nella tua oggi adesso mi hai fatto due domande una è il documento e l'altra è la competenza di un corso di formazione ora io adesso ho caricato qui questo prodotto che si chiama 8stamp lo trovate dentro la suite come lstamp con maggiori dettagli cosa sarebbe? voi immaginate una perizia un preventivo un'offerta quindi l'esempio era appunto il tecnico o la rilevazione fatta da un drone piuttosto che da un'apparecchiatura elettronica deve essere spedita la vostra controparte prima di spedirla questo documento che è un documento digitale si fa letteralmente un drag and drop lo trascino dentro l'applicazione l'applicazione cosa fa? va a creare la firma criptografica di quel documento ogni documento digitale ha una firma univoca pronto? vai vai era un microfono di una persona che si è aperta dicevo quindi quando un perito un architetto una struttura un chiunque comunque della filiera deve trasferire un documento e lo vuole rendere certo non più modificabile lo trascina dentro questa applicazione e batte in via non deve fare altro eventualmente mette il dato del copyright se lo vuole emendere perché magari l'account è intestato a Alessandro Civati ma lavoro oggi per l'azienda Lutenix Inc allora io quando sto per battere l'invio specifico il copyright di quel documento quindi immagino tanti periti lavorino per degli studi professionali piuttosto tra virgolette un SRL allora non è il copyright della persona fisica ma è quello dello studio dove loro lavorano quindi in questo caso diamo anche la possibilità di mettere questo perché teniamo anche presente che molti di voi fanno attività di consulenza oltre che di analisi e verifica quindi anche la consulenza purtroppo in Italia la consulenza è sempre quella cosa che non è mai valorizzata fino in fondo o che è sempre un regalo che la gente non comprende quando voi date un parere in questo caso può essere un parere legale o un parere peritale ecco quel parere lo trasformate in un documento che notarizzate cosa dicevo il file viene dal file viene estratto questo codice un codice strano numerico che è il file unico di ogni file è l'identificativo unico di qualunque documento digitale ovviamente è diverso per documenti è un po' l'impronta digitale del file noi questa impronta digitale l'andiamo a sparare dentro la rete blockchain che ci restituisce poniamo un codice un hash code in gergo nella nostra soluzione in questo caso abbiamo due varianti la prima semplicemente tokenizziamo il dato e restituiamo il documento firmato con incollato sopra questo codice dall'altro visto che siamo anche un po' marketing orient visto che dobbiamo vendere il nostro prodotto e farlo vendere dobbiamo anche essere commercialmente interessanti quindi oltre a dire io mi creo la relazione del perito la relazione topografica o un documento e ci metto su firmato in blockchain creo anche il sistema mi genere un certificato come quello che vedete dove si dice che il nome della persona ha firmato un certo tipo di documento con le informazioni univoche immaginate il dossier finale del 110 non è una paginetta è un clic bello di carta ecco si trasforma tutto in pdf e si spara sulla questo collage di documenti genera questo codice criptografico e genera un codice qr che io poniamo e metto sulla mia copertina del mio documento che mando magari al mese piuttosto che ai miei colleghi piuttosto che me lo tengo in archivio semplicemente leggendo poi il codice qr basta un telefono il nostro software non implica e non obbliga di acquistare o di installare applicazioni diverse chi ha un iphone non deve neanche installare l'applicazione per leggere qr quindi con un cellulare normalissimo si può verificare che lo sia davvero quello se c'è un problema si va retroso alessandro volevo dirti anche una cosa dato che qua sentiamo parlare da anni di numeri potresti dare un'indicazione anche del costo cioè io sono il tecnico mando via tre progetti al giorno ma porca miseria se mi mangia il guadagno che faccio dei progetti cosa può incidere un costo di una una certificazione notarile così allora ad oggi per come noi l'abbiamo sviluppata e anche questo ci rende unici tant'è che il motivo per cui stiamo anche con molto orgoglio crescendo molto è che fondamentalmente l'utente adesso non vado a fare attività commerciale ma poi la avremo in un altro momento se voi andate nella sezione pricing e questo può essere l'utente con un pacchetto base lui paga poniamo 100 euro all'anno diciamo una versione un pochino più articolata potrebbe pagare 250 euro all'anno e si fa due o tre transazioni vi faccio un esempio vi faccio vedere transazioni vuol dire notarizzazione di documenti vuol dire emissioni di badge di certificati vuol dire iscrizioni sulla rete blockchain le soluzioni ad esempio senza andare vediamo qua le transazioni si parte da 100 transazioni a 500 750 una transazione più o meno può costare 30 centesimi poi se ne comprano tante poi il discorso di più o meno potrebbe costare lì 30 centesimi quindi Alessandro per capire io che sono un tecnico mando via 10 cose al giorno notarializzate come avessi fatto una raccomandata e mi costa 3 euro in un giorno con 10 cose quindi a portata di tutti molto di meno perché poi i pacchetti sono anche molto di meno alla portata quindi di tutti e questa è la cosa più importante che spaventa un po' tutti l'inizio cosa bella Roberto che tu comunque puoi identificare l'unica persona che può vedere quel documento non è solo che lo possono vedere tutti cioè è una sorta di è solo quel gruppo che tu decidi che lo veda punto ok? esatto e la condivisione dei nostri documenti che è sempre una funzione in questo caso di questo prodotto L-Stamp che vi dicevo che noi abbiamo chiamato L-Proof perché come avete visto questo certificato o banalmente anche il mio certificato questo risposto il monitorino vedete questo loghettino vicino al mio nome significa che dentro il sistema c'è il documento d'identità di Alessandro Civati stessa cosa se io devo mandare un file a Roberto piuttosto che a un altro di voi io inserisco i dati di Roberto e dentro al sistema si fa questo passaggio e quando poniamo Roberto apre quel documento Roberto contestualmente lo firma e io in questo caso non ho solo la ricevuta di consegna immaginate la raccomandata classica quanti casi soprattutto legati al 110 o anche a casi di contestazione dell'agenzia delle entrate si dice sì ma la raccomandata l'ha ritirata il portiere non me l'ha data o me l'ha ritirata la segretaria e poi si è persa in azienda ma io non l'ho ricevuta ecco in questo caso il documento finisce letteralmente nelle vostre mani poi come succede per il bancomat se voi avete il bancomat e dietro avete appiccicato il codice qualcuno se ne entra in possesso e vi svuota il conto la banca vi dice mi scusi ma dov'era il codice per il bancomat ecco questo vi dice il stesso principio quindi condividere un documento certo significa anche avere la prova che il vostro specifico interlocutore lo ha ricevuto a un costo complessivo che ripeto poi lavorando sui grandi numeri queste sono le licenze singole che abbiamo visto una licenza aziendale che potrebbe costare intorno ai 1000 euro partiamo con 1000 euro diamo addirittura 9500 110.000 transazioni quindi andiamo a dei costi quasi ridicoli per il cliente perché parliamo davvero di decine di centesimi uno studio di architettura un commercialista uno studio di ingegneria con 1000 2000 euro e nei 2000 euro perdonatemi gli vendiamo anche la formazione 4-8 ore di formazione per l'uso dei nostri applicativi lui può mandare praticamente tutte le sue attività le può proteggere uno studio l'architetto che di solito siamo a pranzo mangiamo con l'architetto e lui ci butta sulla tovaglietta del tavolo uno schizzo e ci fa vedere guarda questo potrebbe essere quello che ti piace potrebbe essere questo quanti di noi o perlomeno gli è capitata una situazione del genere quello schizzo è un valore dell'architetto quello è il sapere dell'architetto maturato in anni di esperienze di lavori di sacrifici ecco prima che l'architetto mi dà la tovaglietta del ristorante fatta con la matita magari l'architetto può fare una foto e la notarizza nella piattaforma via è un archivio perché lui può provare che oggi in questo momento martedì 21 settembre 20-21 alle ore 6.08 ha fatto questa cosa e da lì i casi possono essere infiniti e questo è protezione del nostro valore la blockchain serve per questo semplificare davvero con un click del cellulare proteggere il dato la notarizzazione di un documento implica tra i 7 e i 15 secondi a seconda della connessione internet che avete quindi un costo come posso dire una società che fa ricerca può scambiarsi documenti riservatissimi solo tra persone a cui interessa la cosa punto e nessun altro può riuscire a vederle quindi c'è anche una secretazione ulteriore garantita dai blocchi dalla catena di blocchi dalla blockchain a seconda poi del concetto dell'uso che volete fare oggi almeno in Europa la blockchain la notarizzazione in blockchain è riconosciuta con il concetto di protezione pre-intellettuale ovvero io non posso registrare in blockchain legalmente parlando oggi un marchio o un brevetto però come succede per l'ufficio per i brevetti c'è l'attività di pre-registrazione significa nel mentre ti do quel lasso di tempo intanto che tu segui se ti interessa tutto l'inter di registrazione puoi fare una protezione pre-intellettuale quindi blocchi e puoi dire io oggi ho fatto questo poi per carità ti interessa il brevetto visto che la legge ancora lo prescrive e la legge non si è ancora evoluta in questo ma ad esempio in Italia c'è la SIAE che già ha iniziato ad utilizzare la blockchain per proteggere alcuni pezzetti del diritto degli artisti e questo è il futuro che stiamo andando a livello commerciale ecco l'altro esempio che parlavamo prima dell'esempio legato alla formazione noi in particolare come Lutenix abbiamo deciso sul nostro sito vedrete fondamentalmente una serie di esempi che sono quelli per il pubblico un case study unico per il mondo dell'educazione noi in Italia in particolare ma in genere siamo molto forti nell'ambito della blockchain per l'educazione ovvero il mio cliente oggi il mio vero cliente il cliente principale in Italia sono gli enti di formazione le accademie le scuole le università i centri di formazione privati o professionali perché perché quando terminano il ciclo di formazione che cosa fanno di solito? vi danno un attestato di carta in italiano oggi che viviamo in un'epoca internazionale dove probabilmente soprattutto i ragazzi andranno sono a Milano e domani vanno a lavorare a Madrid a Barcellona a Londra a Berlino ecco che si portano dietro un pezzo di carta scritto in italiano che dice che lui è un esperto informatico o sa usare un drone tornando all'esempio ecco può avere un certificato banalmente in formato digitale noi da settembre 20-21 abbiamo integrato all'interno del nostro processo di certificazione anche i codici ADA i codici ADA rientrano nell'Atlante del lavoro prescritto dall'Unione Europea a partire dal primo gennaio 20-24 quindi abbiamo ancora tre anni di tempo tutti i soggetti che erogano formazione devono riportare sui loro certificati un codice identificativo dell'attività di formazione definita dall'Unione Europea che è già pubblica è stata approvata otto anni fa adesso si inizia a parlarne questo cosa vuol dire che se io mi diplomo faccio un corso specifico ma sul mio diploma non c'è questo codice e domani io mi sposto in un altro paese per l'altro paese quel pezzo di carta è carta straccia non vale perché? perché è stato definito un prontuario una lista che serve per il riconoscimento bilaterale in questo caso dei titoli di studio delle professioni quindi anche in questo caso chi fa formazione con noi oltre a notarizzare l'attestazione l'ente di formazione conferma che Alessandro Civati ha conseguito un risultato ecco gli diamo anche questa informazione in più gli diamo il certificato notarizzato come quello del perito poi gli diamo anche questo vi faccio vedere Alessandro una cosa visto che abbiamo sforato con i tempi ti chiedo una cortesia finché non entra il prossimo però ti spiego Alessandro vorrei che tutte quelle persone che sono qui presenti e adesso lascio la parola anche al nostro presidente facessero quel passaggio di iscrizione gratuito logicamente in modo tale che così hanno la prova approvata di come funziona il dati che possono prendere quindi se dai il nome del sito esattamente come arrivare a registrarsi ognuno di noi allora noi siamo un'azienda ma poi c'è privati o libriassionisti vai avanti tu su questo che credo sia importante l'importante è dare il codice allora adesso il sito web è questo lutinx.com quindi l-u-i-n-x punto com sulla destra trovate il bottoncino login lo facciamo anche brevemente ti ho girato i dati ti ho girato i dati della nostra SPA se eventualmente vuoi partire da lì presidente ci sei? sì ci sono ci sono buonasera a tutti allora una cortesia buonasera Alessandro intanto comincerei già dall'aprire la nostra posizione quindi mi sembra chiaro evidente come ha emesso quindi vedo questa situazione è molto interessante quindi già manifesto questa volontà e penso che tutto il consiglio se c'è approverà questo discorso qui e poi da lì partire per tutta una serie di situazioni per chi eventualmente lo necessita certo ok quindi AMS 0AD SPA però bisogna bisogna segnare cosa ci vuole un numero di codice io in diretto non ve lo posso fare dovreste poi farlo voi va bene va bene ok però intanto iniziamo ok quindi iniziamo da noi perché comunque anche per i campi di azione vedi la formazione vedi i corsi le certificazioni anche lo scambio la certificazione dei documenti per quello che necessita la nostra attività è utile ed è necessario anzi ci pone all'avanguardia di altri competitor di altre società e quindi percorriamo sempre l'onda la cavalchiamo noi la cavalchiamo e loro la inseguono assolutamente sì ha ragione ok grazie permetto poi i partecipanti a questa sessione poi Roberto avrà ovviamente l'elenco che adesso si registrano nello stesso principio della tracciabilità delle competenze quindi le attività formative che vengono fatte noi rilasceremo in questo caso non lo rilascerò io o perlomeno lo rilascerà la vostra società a tutti i partecipanti che si sono ovviamente iscritti e registrati un badge tipo questo perché oltre a registrare le attività formative una delle finalità che ha questo scopo a questa piattaforma è anche quello di fare pubblicità a voi perché io ho partecipato poniamo voi oggi avete partecipato a questo webinar questo è un esempio di un badge che trovate sul sito qua ci sarà il vostro logo che rilascia poniamo ad Alessandro Civati il certificato che ha partecipato a questa attività di oggi ha il suo pdf se lo volete oppure ha questo badge ovviamente brandizzato e personalizzato con i dati della vostra azienda ma in questo badge cos'è che c'è scritto? c'è scritto poniamo cliccando poi espandendo questi menu che io ho partecipato a questo e ottengo un badge che con questa icona posso condividere poniamo sui social lo condivido sulla mia pagina LinkedIn lo condivido sulla mia pagina di Twitter Facebook cos'è questo badge? io vado a dire a tutta la mia rete di contatti che io oggi ho partecipato a un webinar con voi che io oggi ho conseguito poniamo l'attestato di pilota di droni che io oggi ho conseguito l'attestato di non so disegnatore BIM questo io vado a dire e lo vado a dire a tutta la mia rete di contatti qui dentro però i miei contatti poniamo su LinkedIn vedrà la vostra pubblicità e quindi diventa uno strumento enorme di marketing diretto per voi per le aziende che fanno formazione o le aziende che ci utilizzano perché in questo modo tutti i miei contatti che potenzialmente potrebbero essere di vostro interesse o di interesse dell'azienda che fa formazione vedono che voi siete avanti rispetto a tutti gli altri perché rispetto a un'azienda che fa formazione o un'azienda come la vostra che è una grande struttura di vendita voi a tutti i vostri venditori a tutti i vostri partner che sicuramente almeno una volta al mese si connettono qui e imparano qualcosa di nuovo in questo caso possono accumulare delle competenze immaginate in questi due anni di pandemia quanti webinar voi avete partecipato ma che cosa vi è rimasto da tutti questi webinar a parte il ricordo vostro vi hanno dato degli attestati dei documenti dei certificati che potete provare di aver passato mille ore davanti al monitor ecco con la nostra tecnologia potreste accumulare poniamo 10 20 100 di queste tipologie di badge che riportano le competenze che voi avete acquisito e magari domani in un'ottica di lavoro potete dimostrare che voi avete seguito un corso per il BIM piuttosto un corso di analisi sullo sviluppo di pratiche edilizie piuttosto che di altre tecnologie questo è la tecnologia blockchain ed è questo quello che vi offriamo un archivio certificato di chi siete voi e di quello che fate e di quello che fanno i vostri clienti i nostri clienti e su questo lascio la parola a Roberto poi io vado avanti e poi il tempo tiranno Alessandro no volevo solo chiederti dato che stanno appunto registrandosi e chiedono il codice assegnaci un codice come MS SPI in modo tale che così facciamo partiamo da lì daccelo tu uno adesso immediatamente codice no Roberto dovete non può essere dato così devi registrare no l'avevamo definito l'altro giorno ti ricordi non l'avevi segnato un codice no perché c'era riconoscimento queste cose adesso le facciamo fare al presidente vabbè allora allora ho dato un codice a Roberto di presentazione mi hai dato un secondo solo un secondo solo ce l'ho io vorrei fare con il MS ma non c'è ancora l'account se non sbaglio no ho mandato solo i dati della sua data ma non puoi darmi un numero che blocchi per caso così me lo assegni dopo eh no perché il sistema non lo riconosce valido ok usa il mio tanto 844419 844419 lo segno qui sul gruppo a cadere usate il vostro però ok 844419 ecco voi adesso stiamo parlando perché ovviamente non è non ancora visto la piattaforma quando vi si richiede di quando voi provate a creare un vostro account il sistema vi chiede un codice di presentazione questo serve anche per legare o perlomeno per permettere a voi di vedere sotto di voi come si sviluppa la vostra rete siccome la registrazione è talmente gratuita come giustamente diceva Roberto il presidente oggi proviamo a registrarsi e magari quando voi parlerete ai vostri clienti di blockchain invitateli a registrarsi oggi con il vostro codice che otterrete appena voi create un account sulla piattaforma il sistema vi assegni un codice che è quello che voi darete ai vostri clienti il vantaggio qual è se domani un vostro cliente compra e non ve lo dice a volte capita il sistema in automatico va a vedere questo soggetto da chi arriva e in questo caso torniamo su che cos'è la blockchain la fiducia non è più assegnata alla persona che diciamo si può dimenticare ogni tanto di fare una registrazione ma è affidata alla macchina quindi se un vostro cliente domani spende un euro sui nomi magari semplicemente perché ha finito le transazioni quindi compra altre 500 transazioni spende magari 50 euro ecco su quei 50 euro il sistema va a vedere chi l'ha portato quel cliente e vi riconosce in real time la vostra commissione e questo è il vantaggio la fiducia viene derogata alla macchina che in real time assegni in questo caso parliamo di struttura commerciale vi assegni immediatamente il vostro valore senza togliere o caricare di un solo cent il prodotto quindi l'altra parte avrà un prezzo pubblico ma la filiera che l'ha permesso di generarlo quel centesimo ha diritto e prende il suo in real time poi magari di questo caso ne parleremo in un'altra sessione Alessandro visto che abbiamo ancora un minuto ricondivideresti per fare i passaggi per favore sì ah sì scusatemi allora screen ok allora il mio consiglio è visto che abbiamo parlato anche di competenze e da quello che so da Roberto voi fate delle riunioni piuttosto regolari prima creato il vostro account come persona fisica perché così come persona fisica potrete accumulare ad esempio quei badge che vi ho fatto vedere per aumentare le vostre competenze personali o banalmente per avere il vostro certificato quello che vi ho fatto vedere che io metto sul mio biglietto da visita per confermare il vostro ruolo andate quindi come vi dicevo sulla nostra login sottoscrivi scegliete privato qui mettete il codice che adesso Roberto ha scritto nella chat e lo compilate quindi qua mettete poi ovviamente tutti i dati il vostro nome il cognome impostate la password l'email e la lingua quindi selezionate qui la lingua importante così quando entrate la prima volta trovate già tutto in italiano poniamo e battete invia accettate le condizioni fate iscriviti la login non è l'email riceverete una conferma di iscrizione dentro la prima email che ricevete trovate la vostra login quella che brutalmente tornando all'esempio tipo questo esempio qui vedete è un codice che inizia per LRX questo codice vi viene richiesto solo per accedere al servizio non vi verrà mai richiesto è un po' come il codice del vostro contorrente in banca al pubblico in esterno partecipate ai eventi date un altro codice questo vi serve solo per accedere alla piattaforma perché grazie oltre alle competenze raccomandere scusi di più soldi di capo no no era Roletti che parlava ah ok con altri e niente quindi sul codice che riceverete in email ci sarà il vostro codice mettete la password che avete inserito questa è una domanda a risolvere è quello che avrete visto ormai in sempre più siti web per dimostrare che non siete un automa quindi a refresh fate la somma in questo caso 3 più 5 qua scrivete 8 e poi battete invio per accedere la prima volta che accederete al sistema vi chiederanno di identificare quindi c'è una procedura in 5 pagine 6-7 pagine caricate nome cognome l'indirizzo codice fiscale l'ultima procedura l'ultima paginetta dovete caricare una vostra fotografia e la foto del vostro documento potete fare anche una foto in diretta tanto serve solo alla macchina perché abbiamo integrato un software biometrico la macchina prende la fotografia e la posiziona sul documento per verificare che siate che i due soggetti combacino una volta che è stato approvato foto e documento vengono criptati e io stesso che sono l'amministratore non posso accedere vengono archiviati in una procedura dove ve lo dico ci sono solo due amministratori del sistema possono accedervi per motivi prettamente ispettivi immaginate che un architetto tornando all'esempio mandi una perizia e domani c'è un problema con quella perizia che si dice che è falsa contraffatta non è corretta la guardia di finanza piuttosto che l'autorità giudiziaria ci chiede a noi la comprova di chi è che ha fatto quel documento allora come succede per le intercettazioni telefoniche magari il giudice può venire da noi e dire voglio sapere chi è quella Alessandro Civati che ha firmato quel documento alla noi ovviamente richiesto esattamente come per i tabulati del telefono che possono andare in Vodafone piuttosto che alla 3 il nostro ufficio legale ci autorizzerà a fare l'estrazione del documento Alessandro scusami ti ho messo i dati della società possiamo farlo in diretta la registrazione io non posso farlo se volete condividere lo schermo lo potete fare voi io non posso creare gli account io purtroppo sono dal cellulare quindi non posso non potete fare l'importante allora l'unica cosa dove io proprio legato